Sono Laura di Vercelli, vi presento il mio piatto. Fettine di vitello tagliate sottili, limone tagliato a fettine, grana padano tagliato a restarelle, pepe, sale, olio extravergine d'oliva. Metto le fettine nel piatto, spremo il limone sopra, aggiungo le fettine di grana padano, metto l'olio e per finire sale e pepe. Buon appetito, grazie!